Facciamo esplodere un'intera sessione di 3 Yards in tre. Saremo riusciti a uscirne a vincitori? No, ma sono anche all'autoraduno anche qui. No, ma ci sono appena andati. Sì, ma io non capisco perché la gente vada... Sì, ma se... Allora, un 3 Yards si scambia le macchine? Si scambiano le macchine. Vabbè, andiamo all'autoraduno. Prima o poi dovranno uscire, no? Se no, mandiamogli messaggi. In qualche modo usciranno. Scriviamogli noob. Noob. Io voglio scrivare... Ecco qui. A U1. Lui, LZZ cose con rapporto negativo. I like people. LZZZ. Ditemi un altro nickname dei 3 Yards. Trius. Trius, ok. Allora, gli scrivo... Cos'è gli scrivo? Bet you can kill me. Non ho scritto rip noob. Io tri... Oh, dai, almeno si incazzano. La stessa cosa l'ha detta a me. Anche a me l'hai inviato. Questo mi scrive shh. Ok, forse li abbiamo fatti un po' incazzare, dai. Dobbiamo andare tutti vicini. Ma questi mica escono, eh. Dai, ma che cazzo? Ma siete dei 3 Yards? Vi abbiamo mandato messaggi. Dovete uscire. Trovare anche solo gente che giochi è una sfida in sto periodo. Oddio. Oh, oh, t'ho preso. T'ho preso, t'ho preso. Se mi fermo bene riesci a metterti in piedi. Vediamo. Oddio. Aspetta che salgo sull'oppressor. Non ho idea. È uscito una merda. Vai, vai, vai. Grande! Oh, oh! Ok, ok. Aspetta, ce l'ho, ce l'ho. Scary Man. Scusami, ma devo, devo killarlo. Non l'ho preso. Ma Scary Man? Fatto. L'ho preso io. Ok, il primo è andato. Sì, sì, stanno uscendo e abbiamo anche combinato una kill. Ok, ce l'ho qui davanti. Vediamo, sarà abbastanza intelligente da non farsi killare? Non lo so. Secondo me, no. Io non credo. Esatto, non è stato abbastanza intelligente. Arriveranno gli altri ad aiutarlo. Cavolo, sono tutti amici, dai. Hatchot, scarso. Ok. Aspettiamo che gli altri escono. Intanto killo Jenny e Luigi. Qualcosa mi dice che sia italiano. Potrebbe essere loro amico come potrebbe essere un totale random. Beh, per il fatto che lo stiamo killando continuamente in tre, probabilmente gli altri arriveranno ad aiutarlo prima o poi, o no? Che culo c'ha sto qui? Speriamo. Ma gli passa sempre qualcosa davanti. Colpito che volta è morto. Non capisco. Fatto? Ok. Ce l'ho. Ok, l'ho preso io. Dai, uscite, che cazzo. Non gliene frega niente. Non vi interessa che il vostro amico sta venendo distrutto. Ce l'ho, ce l'ho. Ce l'ho. Eccolo. Ma cazzo ci muove? Ah, ma c'ha il cappellino d'antisportivo. Bene, gli ho fatto un headshot. L'arroganza dei tipi che utilizzano il... Cazzo ci muove di merda. Che utilizzano il cappellino quando sono in una sfida di questo tipo. Ma che cazzo? Ma non ti converrebbe usare il casco a essere serio? No, perché devi far vedere che c'hai il cappellino, allora. Eccolo qua di nuovo. Ma non capisci che è easy farti un headshot? Ecco appunto, dicevo. Ce l'ho, ce l'ho. Vediamo, vediamo se laghi adesso. C'è girato, c'è girato. Ok, l'ho ammazzato. Sì, ma è totalmente inutile, scary man. Scary merda. Ok, vediamo che farà. Che combina lì dietro. Utilizzer. Mannaggia a te che utilizzi solo il lancio. Mi si ti distruggo. Ti distruggo. Adesso. Subito. Ecco. Oh, ne è uscito un altro. Attenzione, eccolo. LZZZ. Allora, io vi lascio questo tizio rosa. Vado dall'altro. Allora, aspetta che sto arrivando. Dov'è? Ok. Ce l'ho. È da me, è in fantasma. Vado con lo Frader e il Nightshark. Di sicuro non mi caga, talmente stupido. Vai, Fana è tuo, te lo sto tenendo occupato. Vai, vai, grazie. Allora. Gli arrivo da dietro. Lo sto misciando apposta, è morto dai messicani. Non ti preoccupa, mo vado a prenderlo. Si prende un bel paraurti d'acciaio sui denti. Lo vado. Non ha idea. Non ha idea che io sia qui. Non ne ha... Cazzo, non l'ho preso. Ma non mi ha visto. Ma se... Non mi ha visto. Gli sono passato letteralmente accanto. Ma sei cieco. Adesso dirà, dove cazzo è questo? Come cazzo ha fatto? Dove sono? Sono qui. E ti sto per distruggere di nuovo. L'uomo spaventoso mi voleva investire. Sei matto? Sì, beh, io so sul... Uccidilo per... È off radar? Sì, è off radar. Cazzo, ma è rosa. Sì, ha preso il rai giro. Non lo vedo. Allora, io mi concentro su LZZ. Boh, io su tutti. Andato, andato. Grande. Allora, LZ non ha il CEO. Quindi potremmo essere a darmi pari. Potrebbe venire distrutto da un momento all'altro. Guarda che... È morto. Ok, ce l'ho, ce l'ho. Ce l'ho. Ce l'ho. Perfetto, fatto. Bene, il primo è andato. Poverino. Ho preso una cosa come... Sette o sei volte. C'è chi? Oh, finalmente c'è l'organizzazione. Ma facciamo quittare anche il nostro amico LZ. Ha messo la passiva. E non ti vergogni nemmeno. Ma gli altri stanno sempre dentro. Sono spariti anche gli altri. Vai raga, scriviamogli assieme. Passive noob. No, adesso sai cosa gli scrivo? 1v1 Minecraft. Passive noob. Ma tanto sicuro sta scrivendo. Mo dirà... 52 contro 1 non vale. Ma siete in 10? Si, se uscite magari, se fate gioco di squadra, riuscite a combinare qualcosa. Tra l'altro. 3v1 noob. Non lo stavo neanche mirando. Ecco, infatti mi ha scritto. 3v1... Ma preciso! Preciso sputato! Ma chiama gli amici, fai qualcosa. Poi 3... 3v1, abbi pazienza, ti sto chillando solo io da quando sei entrato. Ma io non lo sto manco cagando. 3v1. Chiama i tuoi amici, gli dico. E' arrivato il solito coglione! Con l'auto di merda! Vado, vado, sto con il Nightshark pronto. Eccolo, eccolo. Ce l'ho. Glodita. Chi è, chi è, chi è? Kian, con l'auto dell'agenzia. Vado, vado. Lo ribalto. Allora. What? Marca puttana! Ti distruggo! Ti distruggo! Ti... Mannaggia a te! Sto andando, sto andando. Eh, prendete il Savage. Sì, mentre io lo inseguo, lo distrago. Sempre che io non lo killi prima, eh. Perché potrebbe capitare. Ce l'ho, ce l'ho. Lo sto killando. Lo sto per killare. L'ho killato. Non c'è problema. Easy. Ok, adesso ti distruggo. Richiama l'auto dell'agenzia, sei il coraggio. Mi ha sponato accanto. What? Porca merda, mi hanno investito. Your fucking mama is noob. Mi ha scritto. Ma mamma ti apre su Candy Crush. È tipo livello 12.000. No, amico, non puoi competere qua. Oh, è uscito un altro, sempre con l'auto dell'agenzia. Adesso si sono incazzati, eh. Oh, alleluia. Mi hanno mandato un messaggio. Non ne ho. È il mio primo... È la prima volta che gioca a GTA, mi dice. Non ho amici. È la prima volta che gioca a GTA. Loll. Bro, come se non abbiamo capito che sono tutti amici questi della sessione. L'ho distrutta. Ok, ma come ve le inventate tante volte? Ok, sto andando a prendere l'altro. Che si inventerà questo adesso? Sembra camperato da qualche parte, in qualche punto strategico. Impossibile. Imprendibile. È lì. Fermo. È semplicemente stupido. Che cosa stai facendo? Raga, arriva un jet. Ok, ce l'ho il jet. Aspetta. Ma quello con laser sta volando. Ce l'ha distrutto e sta ancora volando. Non sa neanche lui che cosa sta facendo. Oh, lei già... Lo vedo abbastanza confuso, in realtà. L'ho ammazzato. Finalmente ha fatto qualcosa, LZ. Sì, sì, è proprio la prima volta che giochi a GTA. Si vede. Dovrei cecchinarlo, secondo voi. L'altro si è messo a frader. Sono spariti tutti. L'unico che è rimasto è LZ. Va bene che sei scarso. Ma non così scarso, eh. Oh, sta arrivando Kian. Kian, lì, come mi chiamano. Devi morire, grazie. No, basta. Skerimena, ancora. Sei fastidioso con i ratti di amnesia, te lo giuro. Se vedi una Toridor non distruggerla, è la mia. Ah, no. Se rirrompi questo oppressor mi fai un favore. Sì, sì, vado. Vado, vado. Lo sto andando. Sempre che vorrei scacciacchinarlo. Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. No, ci sono i palazzi in mezzo. Aspetta. Resta in linea. Aspetta che tanto si fa vedere tra poco perché è talmente stupido che non... Si è buttato. Si è buttato e si sta anche tipando, forse. Esatto. Eh, sì. Va, vai. Ecco, grazie, civile. Ce l'ho, ce l'ho. 3, 2, 1, stai per morire. Attento. Sei morto. Perfetto. Madonna. Tippati con questo di missile, tippati. O ti faccio tippare fuori da GTA. Questo mi odia, ma cosa ti ho fatto? Uno di loro credo sia uscito con l'hatoridor, tra l'altro perché si muove proprio come... Esatto. Si muove proprio come... Non era un hatoridor. L'ho sopravvalutato. Hai like, Blackpink. Ok. Ok, faria. Allora ti killo così. Fatto. Era così difficile, bastava farlo prima. Vi prendevate le kill prima e era risolto. Guarda questo che mi prova a sparare mentre volo, vai. Ah, capito, si è suicidato subito, eh. Comunque, nonostante tutto, la costante è Scareyman, eh. Questo qui non quitta con niente. Non gliene frega un cazzo. No, no, è assurdo. Sto continuando all'infinito. Scareyman penso sia più tryhard di tutti i loro messi insieme. Ma lui tryhard nella vita. Guardalo. Sono spariti tutti. Non c'è più nessuno. O stanno fradano, si sono tippati. Pronto a prendere il laser. Non assicuro niente. Cosa sta usando? Laser. Come gli va di usare il laser? Altri due coglieri che mi stanno agganciando. Ok, adesso mi serve concentrazione. Eccolo. Quattro, la cimota. Sì. C'è tada alta o bassa o cuota? Un po' senza bassa. Ok. Fammi vedere se riesco. Fatto. Bravo, fa una grande. Eh, ma questo non è un completo co... Non è un completo coglione col gel. Ha provato una retromarcia. Solo che giustamente non si rende conto che io c'ho il Raiju e quindi posso utilizzare la modalità verticale. Eh, è stato bravo perché mi è andato molto in alto, molto velocemente. Non avevo capito che era in alto. Niente da dire. Sbromen house. Stiamo fightando di nuovo. Sta andando in retro nuovamente. Fatto. Distrutto di nuovo? No, sta fumando però. Non so se si tippa, non so se... Sta continuando a giocare incredibilmente. Quasi non ci credo. Si vede che è una super forte che c'è. Bravo col gel. Ragazzi, se volete trovare il canale di questi due gentili signori che mi stanno accompagnando, abbiamo fatto l'esercito. Intanto ammazzo questo. Trovate il link in descrizione. Ha detto, non mi è andata bene con Raiju. Ritorniamo col vecchio amico laser. Scusa, come hai preso il laser, potevi prendere Raiju, no? Non era più semplice, forse. Oh, oh, oh. Ha fatto una manovra buona stavolta. Dove minchia siete? Sopra Vestucci. Spiaggia. Mi sono lontanissimo, aspetta che mi avvicino. Non so perché si illuda a usare il laser. Si, beh, vuole usare solo gli aerei, chiaramente. Madonna. Non so il motivo per cui si continua a ostinare a utilizzare il laser. Perché sarebbe pure... Le basi le ha. Sarebbe pure bravo. Ma allora perché non usi il Raiju? Non sarebbe meglio. Non so. Sarebbe. Sarebbe.